Nel primo tempo l'Ischia non ha costruito molte azioni pericolose, invece nel secondo, dopo il rigore parato, ci avete creduto un po' in più fino alla fine? Guarda, io credo che è vero, non siamo riusciti a costruire il primo tempo, ma siamo venuti fin qua con la voglia di provarci, di crederci fino alla fine. Nel primo tempo, sapevamo di incontrare una delle squadre più forti di questi play-off, per via anche, voi lo sapete, dei soldi che questa squadra ha speso per poter vincere il campionato e poi si è trovata impelagata all'interno dei play-off. Noi siamo venuti qui, siamo venuti con tutta l'umiltà, con la voglia di far bene e io credo che si è vista questa cosa. Io credo che oggi i nostri ragazzi, a cui io faccio i complimenti ma do un abbraccio, do un abbraccio forte, abbiano dato e abbiano realizzato una prova di valore reale, concreto e sono stati veramente uomini fino alla fine e ci hanno provato. Non ci siamo riusciti e qui c'è il rammarico perché poi alla fine il risultato è ciò che conta, però io oggi ai nostri ragazzi, e dico nostri perché sono tutti schitani, voi lo sapete, sono figli di tutti, oggi hanno fatto una prova davvero d'onore. Poi le prestazioni possono essere più o meno positive, ci sta che un tempo magari se è lì in attesa anche di studiarlo l'avversario, già che a differenza delle nostre avversarie che riescono a recuperare i nostri video abbastanza facilmente, noi abbiamo qualche difficoltà in più, il San Marzano l'abbiamo studiato solo nell'ultima settimana, siamo stati lì, siamo stati attenti, probabilmente l'unica disattenzione nostra ci è costato poi alla fine il risultato. Però io oggi non ho visto una differenza enorme tra una squadra fatta da tutti i solani, il merito va a tutta la società per la composizione di questa rosa, rispetto a una rosa fatta da centinaia di migliaia di euro. Un abbraccio lo diamo anche ai tanti giocatori assenti, compreso il mister per Covid. Sì, lo diamo a tutti perché la rosa è fatta da tutti, è fatta dai ragazzi, è fatta dai ragazzi che sono qui, è fatta dai ragazzi che sono a casa, che abbiamo sentito, i ragazzi hanno potuto vedere il mister a distanza in albergo, siamo riusciti ad attrezzare con un maxi schermo in modo che potesse salutare i ragazzi e abbiamo giocato a testa alta anche per loro. Siete arrivati quarti in campionato, avete fatto il primo turno di play-off, siete usciti, semifinale della Coppa Italia regionale, qual è il bilancio di questa stagione e da dove ripartire? Guarda, ti giro io a te la domanda, dimmi tu chi degli addetti ai lavori pensava che questa rosa potesse arrivare a questo punto? Ti rispondo io nessuno. Nessuno a inizio anno pensava che una rosa costituita così potesse raggiungere questi traguardi. Abbiamo parlato di tante cose durante il corso dei mesi, veramente tante. Noi semplicemente abbiamo messo testa alla squadra, il lavoro ha dato i suoi frutti e siamo stati ripagati con il raggiungimento di questi obiettivi. È chiaro, non stiamo qui a parlare di una vittoria, una vittoria di campo, stiamo parlando però di una vittoria in senso di raggiungimento di un primo step. Poi è chiaro che dobbiamo continuare a lavorare e solo così possiamo pensare di poter migliorare. La frattese è scomparsa, ma io ti dico, è vero, ma la frattese l'abbiamo fatta scomparire anche noi. Quando siamo andati fino a fratta abbiamo fatto una prestazione con la P veramente maiuscola. Mi parli del Savoia e ti dico, noi siamo andati a Savoia e abbiamo fatto un'altra grandissima partita. Certo c'è il rammarico, ti dico, magari con la partita con Napoli United, ma in realtà il rammarico c'è anche nelle sconfitte con la Putiolana che secondo me i ragazzi non meritavano perché abbiamo preso all'andata gol all'ultimo secondo su un calcio di rigore e ci siamo divorati. Il due pari succede in casa. Quindi ti dico che è vero, potevamo puntare al secondo posto, però ti dico anche che stiamo parlando sempre di squadre che hanno singolarità importanti. Quindi noi se ce lo siamo giocati è solo perché questa squadra quando è scesa in campo ha messo qualcosa che va oltre la tecnica, ha messo il cuore. E hanno messo il cuore perché questi ragazzi a questa maglia ci tengono veramente.